Come state operando proprio nelle zone terremotate, con quale personale, con quali mezzi? Con la protezione civile, con i nostri mezzi che man mano ci vengono richiesti perché poi lì non si deve andare ad intasare. La protezione civile regionale è già lì nel posto, man mano arriveranno altri mezzi, anche dei civili, però l'obiettivo è coordinarci perché altrimenti non essendoci strade di accesso, anzi molte delle quali sono anche inibite all'ingresso, dobbiamo fare in modo di non creare un tappo. Avete messo anche a disposizione dei pullman della tua, qualora ce ne fosse bisogno? Sì, sicuramente arriverà un momento dove le popolazioni devono andare o ai campi o addirittura nelle città che li vogliono accogliere. Per esempio l'aculo ha messo a disposizione le case map. Per fare questo abbiamo detto loro che se serve mandiamo i nostri mezzi. Anche in questo caso dobbiamo stare attenti a non mandare mezzi e intasare il traffico e quindi i soccorsi perché adesso l'obiettivo prioritario è salvare vite umane.